Quazzolino Stando io ho finito se perdo Filippo Ha puntato 16, che faccio, vedo? Filippo, ormai devo vederle O rilancio? No, io rilancio direttamente Stanno ormai finite Quello non c'è un cazzo Per me questo non c'è niente Sta avvenendo perché ormai c'è un minuto As e K, guarda, non c'è niente Io c'ho almeno una coppia Lui non c'è niente Va, fangolo Intanto Mi sta mettendo su internet Perché io sono la farò bluff Grazie a tutti